amore ma il vino non l'hai preso finito il vino nessun problema resta a casa e vai su vino 75.com una bollicina per l'aperitivo un rosso per cena un semplice click e il vino sarà già in casa tua così da poterti gustare un buon bicchiere in compagnia vino 75 la tua enoteca online